benvenuti in questa guida top 7 tavoli da biliardo di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo backshot winner tavolo da biliardo molto completo da 6 metri dimensioni esterne 183 per 90 x 79 centimetri dimensioni vediamo la nostra valutazione nella qualità generale assegniamo 5 stelle valutiamo l'offerta 3 stelle con una straordinaria funzionalità con un rapporto qualità prezzo molto alto il nostro punteggio generale è di 73 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo grafica ma.ro tavolo biliardo carambola 7 ft modello rich blue full optional 2 in uno piano per tavolo da pranzo e panche contenitore il biliardo diventa un ecco cosa pensiamo una qualità generale discreta nell'offerta assegniamo 4 stelle 3 stelle per le caratteristiche in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 82 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo grafica ma.ro tavolo biliardo carambola 7 ft modello blue sky full optional 7 ft diventa un bellissimo tavolo piano di copertura in vediamo la nostra valutazione una qualità generale buona imbattibile l'offerta a prezzo scontato con caratteristiche quasi al top risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare grafica ma.ro tavolo biliardo carambola modello zeus 8 ft misure di gioco 220 cm x 110 cm questo biliardo è dotato vediamo il nostro parere un'eccellente qualità generale un'offerta da cogliere al volo con caratteristiche quasi al top in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo simba srl tavolo biliardo carambola 7 ft modello rich blue full optional 2 in uno piano per tavolo da pranzo e panche contenitore il biliardo diventa un vediamo la nostra opinione qualità generale davvero eccezionale ottima offerta online per le funzionalità raggiunge 4 stelle diamo 4 stelle per il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo backshot tavolo tavolo da biliardo da 7 piedi backshot manattan molto completo 213 x 122 x 80 cm con foglio e parti sostituibili ecco la nostra valutazione una discreta qualità generale offerta molto interessante una funzionalità straordinaria per il rapporto qualità prezzo diamo 5 stelle il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica tavolo da dimensioni 245 cm x 135 cm x 82 cm accessori forniti due stecchi in legno segnapunti ad incasso su spon ecco il nostro parere nella qualità generale diamo 4 stelle 4 stelle per l'offerta del momento una funzionalità straordinaria ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 93 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriviti al canale